Il domicilio della nostalgia La strategia del silenzio attende la sua direzione con distratta eleganza e nel paesaggio immaginato consuma sfumature attenuando la crudezza delle espressioni Il perimetro delle parole elegge a sede della libertà la resistenza dei luoghi quando la casa di un poeta inclina il confine del tempo